Ehi, rieccoci. Oggi torniamo sulla situazione attuale a Gaza, perché il premier israeliano Netanyahu ha annunciato come la fase più intensa del conflitto, potremmo dire, si stia avvicinando al termine con una riduzione dell'attività di guerra che dovrebbe permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari, per cui vale la pena vedere come stia andando il famoso molo temporaneo statunitense. Ma prima, prendiamoci il tempo, almeno stavolta, per una buona notizia, perché apprendiamo oggi come Julian Assange e gli Stati Uniti abbiano raggiunto un accordo per la sua liberazione, mettendo finalmente il punto a una vicenda che per anni ci ha ricordato i pericoli della professione giornalistica. Della storia di Assange abbiamo parlato spesso in Breaking Italy, vi risparmio le lunghe vicissitudini che lo hanno portato a stare sette anni nell'ambasciata ecuadoriana a Londra per evitare l'arresto. Arresto che alla fine è comunque giunto nel dicembre del 2019, seguito poi dal costante pericolo di venire stradato negli Stati Uniti, perché la notizia in questo caso è proprio il suo rilascio dalla prigione britannica in seguito a quello che sembra essere a tutti gli effetti un accordo con il governo statunitense, secondo il quale Assange si dichiarerà colpevole di aver violato la legge sullo spionaggio in cambio della possibilità di ritornare a casa sua in Australia. L'accordo era ovviamente in lavorazione dietro le quinte da parecchio, perché Assange ha già lasciato il Regno Unito ieri per dirigersi nell'isola di Saipan, dove ascolterà la sentenza. Saipan si trova qui, nelle isole Marianne settentrionali, un arcipelago del Pacifico che fa parte di quei territori statunitensi che non sono incorporati, che per farla semplice vuol dire che sono sì sotto la giurisdizione statunitense, ma non fanno parte degli Stati Uniti propriamente detti e non godono degli stessi diritti e privilegi degli Stati Federati, che è ovviamente una scelta mirata per far svolgere il procedimento ad Assange in un territorio formalmente statunitense, ma il più neutrale possibile, visto che a conti fatti si tratterà di una condanna formale a cinque anni già scontati nel Regno Unito, in seguito alla quale verrà poi definitivamente liberato. Ora, guardate, su Assange sono stati scritti interi libri, girati documentari, intere carriere hanno ruotato intorno alla sua vicenda e alla sua persona, e il caso giudiziario che lo ha coinvolto ha finito per plasmare il modo in cui un'intera generazione vede e concepisce lo sforzo investigativo d'inchiesta. Ma il punto è che, ridotta ai minimi termini, la vicenda è in realtà molto semplice, perché quello per cui Assange è stato prima accusato e poi incarcerato ha a che fare con il modo in cui ottenne dalla sua fonte Chelsea Manning, che all'epoca era un analista dell'intelligence dell'esercito statunitense, i file riservati del governo che poi avrebbe pubblicato su Wikileaks, scoperchiando il vaso di Pandora dei crimini di guerra statunitensi in Iraq e in Afghanistan, per citare solo uno dei punti coperti dai file. L'accusa in questi anni, infatti, è sempre stata che Assange abbia cospirato con Manning per hackerare i computer governativi e che si sia messo in aperta violazione del cosiddetto Espionage Act, una legge del 1917, piena prima guerra mondiale quindi, che vieta di ottenere o divulgare informazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale e venire utilizzate a vantaggio di nazioni estere. Attività, quella di ottenimento e divulgazione di informazioni riservate, che è però molto comune al lavoro di un giornalista, che poi è il motivo per cui di Assange si è sempre sottolineato a più riprese come non fosse un giornalista appunto, perché ovviamente in questo modo si tende un po' a derubricare i rischi alla libertà di stampa che derivano dall'applicazione dell'Espionage Act, rischi che poi ci riportano la situazione attuale. Perché il punto è questo. A netto di quanto controverso possesse il personaggio o alcune delle sue prese di posizione, la notizia della liberazione di Assange è comunque un'ottima notizia. È un'ottima notizia per lui, nel senso per tutto quello che ha dovuto subire in questi anni, per il punto che è stato messo a una vicenda che ormai da tempo era sconfinata in una vera e propria persecuzione verso la sua persona. Il punto è però che la buona notizia si ferma qui, nel senso che allargando il campo, la liberazione di Assange non fa nulla per appianare o dirimere le preoccupazioni sulla criminalizzazione del lavoro giornalistico e sulla restrizione della libertà di stampa. Assange dovrà infatti comunque dichiararsi colpevole, comunque chinare il capo di fronte alla giustizia per potersene andare da uomo libero. E non c'è niente a suggerirci che in futuro la sua storia non venga replicata in altri casi che porteranno alla luce altre storture governative statunitense o meno. Se ovviamente, attenzione, dovessero venire alla luce altre storie di questo tipo, perché ce ne si guarderà bene. L'altra faccia della medaglia infatti è l'intimidazione che la storia di Assange si porta dietro, perché è ovvio, chiunque in futuro dovesse trovarsi tra le mani documenti talmente tanto importanti da dover essere pubblicati, ma che affondano le mani nella sicurezza nazionale statunitense magari, ci penserà molto bene prima di immolarsi come Assange, sia che si tratti di una fonte, sia che si tratti di un giornalista, perché il danno maggiore di tutta questa storia è sempre stato legato alla paura, al sentimento instillato in chi dovrebbe invece avere la consapevolezza di poter lavorare senza ingerenze e che adesso può si gioire della liberazione di un collega, ma continuando comunque a guardarsi le spalle, a doversi guardare le spalle. Questo è un tema che non possiamo sottovalutare, quindi bene, bene affatto Assange a dichiararsi colpevole pur di ricevere la libertà, però la questione sotto un altro aspetto, un aspetto più grande, non è chiusa, non è chiusa affatto. Nel mio manuale del perfetto viaggiatore, scritto interamente dal sottoscritto, ci sono alcune cose da tenere a mente quando si decide di organizzare un viaggetto, soprattutto all'estero. Prima regola, controllare e prenotare al momento giusto voli hotel. Seconda regola, farsi una sim virtuale per evitare le lunghe perdite di tempo in aeroporto quando la vostra offerta mobile non dovesse essere compatibile nel paese in cui andrete. Ecco, NordVPN quest'estate porta sicuramente acqua al vostro molino, farà il caso vostro, vi permette di entrambe non so come si... voglio dire dei concetti, li devo verbalizzare, non sono in grado, non è il mio lavoro parlare, in effetti. NordVPN, infatti, oltre ad essere uno dei nostri sponsor storici, è perfetto perché grazie al suo servizio di criptografia vi permette di mascherare il vostro indirizzo IP e spostarlo in uno dei 111 server sparsi in tutto il mondo, accedendo così alle migliori offerte per i viaggi. I vantaggi non si fermano qui però, perché anche in vacanza, grazie alla VPN, potrete seguire i contenuti che più vi piacciono, quindi le vostre piattaforme preferite, i film, le serie tv, gli europei di calcio, che ovviamente, forza pallone, siamo agli ottavi, mi viene detto dalla realtà, non so cosa voglia dire, che siamo agli ottavi, però è un'ottima notizia. Gli ottavi, poi ci sono i quarti, immagino, i mezzi, e poi ci sei tu, l'Eylander. Oltre a questo, NordVPN vi permette di connettervi in sicurezza su tutti i wifi pubblici di hotel e aeroporti vari, e se non dovessero esserci nessun problema, perché a quel punto c'è Seili. Infatti NordVPN per quest'estate ha deciso di mettere su un'offerta incredibile, dato che se passate dal link qua sotto in descrizione, non solo avrete uno sconto esclusivo sui piani biennali di NordVPN, 4 mesi extra sui piani biennali, eccetera, ma in più riceverete dopo l'acquisto un bonus fino a 20 GB gratis su Seili, servizio creato da Nord che fornisce sim virtuali molto convenienti in 150 paesi. Quindi basta roaming, basta hackers, basta tutto, ehm... daje. Ma che, cioè, è così che si fanno le integrazioni? Io non lo so. Io non... non lo so. Parliamo di Gaza, va? Parliamo... di Gaza. Allora, nella serata di domenica, durante un'intervista rilasciata all'emittente israeliana Channel 14, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la fase del conflitto attualmente in corso, che aveva lo scopo, lo sapete, di eliminare le cosiddette sacche della resistenza di Hamas e che ha definito uno sforzo ad alta intensità, sta per arrivare al termine, per lasciare il posto a una terza fase, che avrà lo scopo di prevenire la riorganizzazione di Hamas e più in generale, per dirla con le parole del ministro della difesa Gallant, la creazione di nuove condizioni di sicurezza per i cittadini israeliani. Quindi si entra in una nuova fase, e questa nuova fase, nota come fase C, non è ancora chiara, non sono stati rivelati i dettagli, e sebbene non preveda comunque un cessato il fuoco, sembrerebbe sottendere una riduzione delle attività di guerra, che potrebbe finalmente portare a un aumento delle consegne di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, che nell'arco di questi mesi di conflitto si sono fatte sempre più inefficienti e sempre più sporadiche, soprattutto a causa dell'assenza di percorsi sicuri per le agenzie e gli operatori umanitari che sarebbero più responsabili della distribuzione di questi aiuti. Infatti, a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo sul cessato il fuoco e il continuo ammassarsi di convogli umanitari ai valichi lungo il confine con la striscia, la situazione umanitaria per la popolazione civile, traumatizzata dai combattimenti incessanti e sempre più esposta al rischio di malattie, malnutrizione e carestia, è ovviamente sempre più disperata. E per questo motivo, già negli scorsi mesi, si è provato a rispondere a questo bisogno implementando delle strategie alternative di consegna, che però per diversi motivi si sono dimostrate fallimentari, o perlomeno di dubbi efficacia. Tra queste potreste ricordarvi, ad esempio, della strategia, che rimane ancora attiva oggi, perché comunque meglio un po' di aiuti che niente, di paracadutare aiuti umanitari direttamente all'interno della striscia, che a fine marzo ha portato addirittura alla morte di 12 palestinesi, mentre cercavano di recuperare alcuni dei carichi che erano finiti in acqua. Ma c'è stato anche un altro tentativo, e cioè la costruzione di un molo temporaneo promosso dal governo statunitense di Joe Biden, che avrebbe avuto lo scopo di compensare, almeno in parte, la mancata consegna via terra degli aiuti umanitari. Ma la cui efficacia è stata messa molto in dubbio molto presto, e adesso vi spiego perché, e come effettivamente è andata finora. Secondo quanto riporta il Guardian, dal momento in cui è divenuto operativo, e cioè dal 17 di maggio, sarebbero arrivati al molo circa 250 camion, diciamo l'alternativa di camion, carichi di cibo aiuti umanitari, cioè più o meno la metà di quanto arrivava prima dall'inizio del conflitto, e ben di meno dell'obiettivo annunciato da Biden, che aveva previsto di portare la capacità del molo fino a 150 camion al giorno. C'è anche da dire che però il molo in tutto questo tempo sarebbe stato effettivamente operativo per neanche 20 giorni, in quanto avrebbe passato gran parte del tempo fuori uso, o perché doveva essere riparato dai danni causati dalle maneggiate del Mediterraneo, oppure per evitare di essere danneggiato. E questa inefficienza ha portato i critici ad accusare il progetto, che è costato ben 230 milioni di dollari, di essere stata una mera trovata pubblicitaria ed elettorale del presidente Joe Biden. Oltre ai dubbi riguardo l'efficacia del progetto, anche la distribuzione vera e propria degli aiuti è problematica, perché il programma alimentare mondiale, cioè l'organo delle Nazioni Unite, impegnato nella lotta all'insicurezza alimentare, che era stato incaricato appunto della distribuzione del cibo dal governo degli Stati Uniti, ha deciso, per salvaguardare l'incolumità dei suoi operatori, di sospendere le consegne e avviare contestualmente un'indagine in seguito all'operazione militare che l'8 giugno scorso ha portato in salvo quattro ostaggi israeliani, ma ha anche ucciso 270 palestinesi, a causa della quale operazione appunto è stata avviata quest'indagine, che è ancora in corso, per stabilire se è possibile svolgere in sicurezza il lavoro umanitario nell'area, o se farlo significa mettere a rischio la vita delle persone che sono lì a distribuire cibo ai civili, che... no? A questo proposito potreste ricordare che in quell'occasione erano circolate delle immagini ampiamente diffuse sui social che ritraevano sullo sfondo delle operazioni di salvataggio proprio il molo umanitario, dando adito a dubbi sull'utilizzo di questo molo, dato che dopo essere stato annunciato da Joe Biden come un salvavita era emersa la possibilità che questo molo fosse stato utilizzato in maniera opposta a un salvavita, cioè a scopi militari. Al momento comunque il Pentagono ha negato qualsiasi utilizzo militare del molo, come anche qualsiasi coinvolgimento di soldati americani nelle operazioni di recupero, però capiamo bene che se dovesse essere confermato che questo molo, pagato dagli Stati Uniti, sia stato utilizzato per cagionare la morte di tutti quei civili palestinesi per salvare quattro stagi israeliani, cioè fosse stato utilizzato come un cavallo di Troia sostanzialmente, sarebbe una bella grana per l'amministrazione Biden, farebbe il contrario di quello che sarebbe dovuto essere, cioè un'ottima leva elettorale. Comunque, qualche giorno dopo questi eventi, il molo è stato di nuovo trasportato verso Israele per essere oggetto di operazioni di manutenzione, e il ripristino della consegna è stato annunciato dal generale maggiore Patrider, addetto stampa del Pentagono, nella serata di giovedì, quando sarebbero state ricevute 656 tonnellate di aiuti. Al momento le consegne rimangono, come vi dicevo, sospese, perché a causa del conflitto e dell'intensità con cui è stato portato avanti, le associazioni umanitarie si ritrovano ad operare in un contesto estremamente pericoloso su tutti i fronti, nel senso che oltre l'incapacità più o meno volontaria di Israele di garantire la sicurezza dei convogli rispetto alle proprie operazioni militari, questi si sono ritrovati ad avere a che fare con bande armate che requisiscono e sequestrano i beni, e c'è anche una difficoltà a gestire la disperazione di una popolazione che non sa quando, semmai addirittura, tornerà un altro camion pieno di cibo. Per concludere, ogni giorno la situazione diventa più tragica, in generale non si sa ancora granché di come procederà il conflitto, al di là di questa transizione a una nuova fase di cui sappiamo pochissimo, perché il ministro della difesa israeliano Gallant si trova proprio adesso negli Stati Uniti, in questo momento, per discutere non solo della striscia di Gaza, ma anche di un altro fronte che si sta scaldando in maniera preoccupante, e cioè quello libanese che sta tenendo Israele impegnata sul confine nord-est del paese, dove ormai da giorni lo scontro con Hezbollah si è fatto sempre più intenso e minaccia di divampare in un incendio che potrebbe coinvolgere una fetta ben più ampia della regione. Sarebbe anche quello un problema, sarebbe un problema diverso, e vedremo se questo darà più potere agli Stati Uniti, più potere negoziale per provare a tenere... non so neanche come dire, tenere a bada Israele, tenerli all'interno di un perimetro ormai abbandonato da tempo di rispetto della vita, dei diritti e della dignità umana, qualcosa del genere. La prima notizia fondamentale del giorno, che vi devo dare prima di avviarci verso la chiusura della puntata, proviene dal nostro bel paese, perché proprio stamattina sono stati resi noti i risultati delle elezioni amministrative tenutesi nei comuni, che dopo il primo turno elettorale di due settimane fa, sono tornati alle urne tra domenica e lunedì per il ballottaggio, che è stato visto come un po' un testa a testa, no? Tra il centrosinistra e il centrodestra. In questi giorni sono andati a votare i cittadini di 91 città minori e 14 capolughi di provincia. Non mi dilungherò troppo, ma a nord di cronaca sappiate che, tra questi, a Bari e Firenze è stata riconfermata l'amministrazione di centrosinistra, con dei risultati piuttosto positivi in entrambe le città, dato che sarà Funaro. A Firenze è stata rieletta con il 60% dei voti, ma a Bari, soprattutto dove il candidato Vito Leccese ne ha preso il 70%, il voto è stato considerato un po' come un segno del benessere del centrosinistra, immagino. Qualcosa del genere. Qualcosa... Le analisi, queste sono le grandi analisi. No, comunque il 70% è un ottimo risultato, evidentemente. Proseguendo, la città di Perugia è stata invece riconquistata, anche grazie al sostegno dato alla neoretta sindaca da un'ampia coalizione composta da PD, Movimento 5 Stelle, Azione, anche una parte di Italia Viva. Insomma, possiamo dire che Perugia è stata vinta dal campo larghissimo. Al centrosinistra sono passati il comune di Potenza, quello di Vibo Valencia, entrambi precedentemente occupati dal centrodestra, e invece sono andati al centrodestra dopo essere stati amministrati dal centrosinistra i comuni di Verbania, Rovigo e Lecce. Mentre, per quanto riguarda i due comuni precedentemente amministrati dal Movimento 5 Stelle, e cioè Campobasso e Caltanissetta, sono andati rispettivamente al centrosinistra e al centrodestra, facendo emergere il partito di Giuseppe Conte come il vero sconfitto, potremmo dire, di questa tornata elettorale. E possiamo anche dire che in generale, anche se non ci sono stati grandi cambiamenti, sembra ci sia stato un leggero spostamento degli equilibri amministrativi verso appunto la coalizione di centrosinistra. Lasciamo l'Italia per proseguire con una storia che arriva dal Regno Unito, perché è notizia di oggi che il partito conservatore britannico ha revocato il proprio sostegno a due suoi candidati alle elezioni anticipate del 4 luglio, in quanto coinvolti in uno scandalo riguardante delle scommesse illecite sulla data delle elezioni. È uno scandalo che sta creando un bel terremoto dentro al partito dei Tori, che è l'altro nome con cui sono normalmente noti i conservatori britannici. I Tories. The Tories. Non prendete le lezioni da me sull'inglese. Prendetele altrove. Questo in realtà è solo il capitolo più recente di una storia che dal momento in cui è emersa ad ora sta acquisendo proporzioni sempre più grandi. Perché nel senso, ormai quasi due settimane fa, il Guardian, il principale quotidiano progressista britannico, aveva rivelato che un assistente parlamentare, e non uno qualsiasi, ma il più vicino al primo ministro Sunak, avrebbe scommesso 100 sterline, cioè poco meno di 120 euro, sulla data delle elezioni anticipate. Proprio tre giorni prima che Sunak annunciasse il tutto, una mossa che, tra l'altro, aveva colto di sorpresa l'intero paese. Ma, curiosamente, un assistente vicino a Sunak lo sapeva. E ha scommesso. Il problema è che, secondo il Gambling Act del 2005, sfruttare delle informazioni confidenziali per ottenere un guadagno e le scommesse può costituire reato. E al momento, anche se non si sa ancora granché delle indagini, sappiamo che sarebbero almeno cinque le persone legate al Partito Conservatore che sono indagate dalla Gambling Commission, cioè il Comitato di Controllo del gioco d'azzardo, che starebbe, appunto, indagando, cercando di capire questo giro illecito. Sicuramente, quindi, un colpo d'immagine a distanza di pochissimi giorni dalle elezioni per un partito che già sta attraversando un momento di forte crisi. E questo era anche tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Grazie al doppio sponsor di oggi, che in realtà sono entrambe cose di Nord Security, cioè NordVPN e Seily. Entrambi ottimi servizi. Entrambi, ovviamente, consigliatissimi. Anche perché uno sponsor serve strano se vi dicessi che non mi piacciono, però sapete che ciò che finisce qui su Breaking Italy in generale mi piace. Tranne gli ottavi dei mondiali. Quelli tuttora non so bene cosa siano, però continuo a ipotizzare sia un qualcosa, cioè come il torneo Tenkaiki, no? Che tu fai e poi quello dopo sfida i quarti e poi ci saranno le semifinali, immagino le finali. Credo. Non lo so. Ma lo scoprirò. Ho un telefono davanti. Potrei rigirare l'intero pezzo, ma perché non lasciarlo andare così? Abbandonarlo tra le... tra i flutti del web in cui navigare con Seily... Grazie. Grazie.